Grazie Presidente, ringrazio l'Onorevole M per l'esposizione e la richiesta di chiarimento al Governo su un tema di assoluta importanza anche e soprattutto per la stabilità della Regione intera. Il Governo ribadisce, dopo che tra l'altro l'ha fatto in maniera molto chiara anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la piena aderenza alla posizione dell'Unione Europea in tema di sovranità sulle alture del Golan. La posizione è stata ribadita tra l'altro appunto il 27 marzo dall'altro rappresentante dell'Unione Europea e dal Vice Presidente della Commissione Europea Federica Mogherini, a nome dei 28 Stati membri, ricordando che in linea con il diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 242 e 497, l'Unione Europea non riconosce la sovranità eserina sul Golan occupato. Per quanto riguarda Gerusalemme, il Governo ritiene che in linea con i parametri ampiamente condivisi alla comunità internazionale per una soluzione al conflitto eseropalestinese la definizione del suo status rientri tra le questioni finali su cui i due parti dovranno trovare un'intesa. Pertanto per parte italiana non si procederà a riconoscere alcuna modifica unilaterale alle linee di demarcazione antecedenti al 4 giugno del 67, IV incluso per Gerusalemme che per quanto ci riguarda e riguarda la comunità internazionale resta capitale ai due Stati e punto di riferimento per i due popoli, nonché, come ribadito appunto dal Presidente della Repubblica, Mattarella, capitale, se così si può dire, delle tre religioni monoteiste e quindi strategica anche per la stabilità della Regione. L'impegno del nostro Paese in Medio Oriente resta orientato a promuovere con spirito costruttivo la stabilizzazione regionale che nell'ottica italiana non può prescindere ovviamente dalle esigenze di sicurezza dell'Israele come dal rispetto del diritto umano e internazionale verso il popolo palestinese. Il contributo italiano in tale direzione trova un suo pilastro nella partecipazione, trova un ulteriore suo pilastro in realtà nella partecipazione alla coalizione anti-Daesh, dove siamo il secondo contributore di truppe, e alla missione Unifili in Libano, di cui abbiamo assunto il comando dallo scorso agosto con il generale della divisione Stefano Del Col, con un contingente di 1.100 unità, nonché nelle missioni addestrative in Libano e in Palestina. Massimo è l'impegno che il Governo ripone nella tutela della sicurezza delle nostre forze armate che operano nello scacchiere medio orientale. Lo testimonia la scelta del Presidente del Consiglio Conte di compiere la sua prima visita nella Regione proprio in Iraq il 6 febbraio del 2019 e in Libano il 7 febbraio del 2019, dove ha incontrato i nostri contingenti trasmettendo loro un forte messaggio di sostegno e apprezzamento per il loro operato. Coerentemente con l'obiettivo prioritario di operare a favore della stabilizzazione regionale, il Governo non deflette dal suo impegno volto a promuovere il superamento delle questioni aperte nella Regione attraverso l'unico strumento riconoscibile, ovvero dialogo e negoziato, basati su progressi politici che devono essere inclusivi e avere una chiara ownership delle parti in causa. Tale linea viene declinata in tutti i contesti bilaterali e multilaterali, nonché nella costante azione di coordinamento all'interno dell'Unione Europea, cui l'Italia contribuisce sempre con spirito costruttivo ed equilibrio. Con tale spirito il Governo sostiene l'azione dell'inviato speciale ONU, Geir Pedersen, volta a reperire una soluzione nell'attuale conflitto in Siria attraverso l'avvio di un processo politico, ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2254, come ribadito anche in occasione della terza conferenza di Bruxelles sulla Siria, che si è tenuta dal 12 al 14 di marzo scorsi, nel cui contesto l'Italia ha rinnovato il suo impegno in risposta alla crisi umanitaria. Resta ferma la convinzione del nostro Governo che non vi siano alternative al dialogo e al negoziato a norma del diritto internazionale e degli accordi già raggiunti che accomunano l'intera comunità internazionale attorno a un equilibrio che potremmo definire rule-based anziché di azioni unilaterali. Sì, grazie Presidente. Ringrazio molto il Sottosegretario Di Stefano per l'esaustiva risposta e anche per aver ribadito.